Operai al lavoro ogni giorno sono anche raddoppiati, insomma il corso San Giorgio verrà ripavimentato prima del previsto, mettiamola così. Sì, senza dare date. Sì, questo è vero, praticamente abbiamo degli operai in più, finalmente è stato recepito quello che era il nostro messaggio, lavorano tutti i giorni, quindi questo è un altro dato positivo, soprattutto perché ci sono i giorni in cui gli esercizi sono chiusi e questo permette chiaramente di lavorare sulle vetrine, sugli ingressi senza recare nessun fastidio. Quindi questo è un dato positivo, noi quel cronoprogramma non lo abbiamo accettato e finalmente la ditta sta dando delle risposte totalmente diverse. C'è un'altra buona notizia che riguarda la nota strada Castellani, in agosto ce la facciamo? Sì, ce la facciamo, questa è un'opera che sarà aperta dopo che c'è stato un collaudo, questo ci tengo a ribadirlo. È importante collaudare un'opera e poi aprirla, perché diamo una certezza che è tutto stato fatto in regola d'arte, tutto, si sono rispettate le normative. È un segnale diverso, dove non bisogna avere fretta di aprire una strada un mese prima, ma io ho preferito adottare un sistema diverso, collaudare, avere la certezza che tutto è stato fatto in regola d'arte. A proposito di strade chiuse, Viale Europa si sa ormai interessata dai lavori per il sottopasso, i cittadini si domandano quotidianamente quando riaprirà? Allora, lì c'è un impegno, anche lì molto importante da parte della ditta, che è una ditta molto, diciamo, quotata, lavora per ferrovie dello Stato, dove appunto noi dandogli tutto il cantiere hanno preso l'impegno di finire in un anno. Bene, i lavori stanno andando avanti, chiaramente non è una competenza mia controllare quel cantiere, anche se gli diamo un'occhiata anche noi. Quello che a me fa piacere è che le due strade che abbiamo organizzato per sopperire a questa strada principale hanno dato un buon, diciamo, risultato, perché effettivamente, eccetto i primi giorni, è logico che c'è un po' di confusione, oggi queste due strade riescono a sopperire dignitosamente questo afflusso di macchine. Questo chiaramente a settembre ci sarà qualche problemino, perché a settembre si riaumenta il numero delle macchine, però se loro effettivamente in un anno ci restituiscono quella strada, diciamo che siamo riusciti a fare un'opera importantissima a Teramo, dando un poco di problematiche alla gente, perché purtroppo non esiste un'opera pubblica, nel frattempo che si realizza, che non crea del disagio, non esiste.